Una fiaccolata in memoria di Giuseppe Tusa, il trentenne sottufficiale della Capitaneria di Porto di Genova, che morì nel tragico evento del 7 maggio scorso a seguito del crollo della torre di controllo del Porto, travolta da una nave, la Giolli Nero. È stata organizzata per il prossimo 21 dicembre alle ore 16 in piazza San Giovanni a Milazzo, perché su questi fatti non cali la tensione, per non dimenticare, e soprattutto perché si faccia chiarezza sulla vicenda e che si celebri un processo per verificare le responsabilità a vario titolo e che alla fine si faccia giustizia. Questa fiaccolata è lo strumento per gridare a tutta Italia che noi vogliamo giustizia per Giuseppe Tusa. Siccome Giuseppe è stato, Giuseppe e gli altri otto dipendenti che lavoravano, altri otto lavoratori, sono stati privati del diritto fondamentale dell'essere umano. La vita che lo Stato ne doveva essere il gestore garante, purtroppo non l'ha fatto. Adesso io dallo Stato pretendo, esigo, che ci sia una chiarezza, una verità su questo processo, sulle responsabilità di tutti quanti, dalla nave al porto non adeguato, la torre non cosciuta adeguatamente, non solo e nessuno nell'arco di questo tempo ha mai valutato che quella torre doveva avere una protezione per essere protetta, per proteggere i propri figli, i propri dipendenti, perché lì sarebbero dovuti essere figli della Marina Militare. Ma mi sa che non li hanno proprio considerati. Quindi le responsabilità salgono fino al datore di lavoro. Poiché mio figlio era un militare, il datore di lavoro, per quelle mie modeste conoscenze, è il responsabile della vita, della sicurezza alla vita di mio figlio. Grazie. 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 Grazie.